piega destra per piega sinistra per destra 5 per sinistra 5 due tempi e attenzione la destra 3 al ponte apre vai 50 destra 5 vai 50 schiora sinistra 5 apre sinistra 5 per destra 5 vai 50 piega destra vai 70 attenzione la destra 5 diventa 3 meno al rosso schiora sinistra 5 vai 30 al palo sinistra 3 a corda vai 30 vai 30 sinistra 3 meno non tagliare vai 50 destra 4 meno e subito sinistra 3 a corda per destra 4 vai 30 per destra 3 giro lungo destra 3 meno giro lungo per sinistra 5 vai 70 attenzione al cartello sinistra 3 meno 2 tempi vai 100 sinistra 3 meno vai 100 destra 5 vai 50 segue sinistra 4 tieni vai 80 vai 80 e attenzione la destra 4 vai 50 segue sinistra 5 a corda sinistra 5 a corda sinistra 5 per destra 5 vai 50 attenzione la destra 4 attenzione vai 70 vai 70 sinistra 5 molla sciganna tra destra vai 100 al cartello destra 4 suddosso vai 30 destra 4 suddosso vai 30 attenzione sinistra 2 apre 3 sinistra 2 apre 3 per destra 4 vai 30 sinistra 4 e sacrifica destra 2 meno per subito sinistra 2 sale sinistra 2 sale vai 30 al cartello sinistra 5 al cartello sinistra 4 per tornante destro 2 tornante destro 2 piega sinistra per destra 3 vai 50 suddosso e subito sinistra 3 meno sfiora per destra 4 diventa 3 sfiora segue piega sinistra vai 100 vai 100 al cancello verde piega sinistra per subito bim in sinistra 1 ritarda subito bim in sinistra 1 ritarda vai 30 destra 5 segue destra 5 vai 70 destra 4 diventa 3 alla fine vai 70 diventa 3 alla fine vai 70 suddosso segue sinistra 5 molla sciganna entra destra sciganna destra segue destra 5 sfiora vai 60 sinistra 5 per destra 5 sfiora vai 70 alle rocce destra 4 più per sinistra 5 vai 50 destra 4 più per sinistra 5 vai 50 destra 3 meno apre 4 segue sinistra 5 segue sinistra 5 vai 50 sinistra 3 a corda sinistra 3 a corda per destra 5 vai 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 40 destra 4 meno destra 4 meno per sinistra 3 segue piega destra 4 per sinistra 4 per sinistra 4 2 tempi destra 4 2 tempi vai 30 sinistra 3 a corda per destra 4 più vai 30 destra 4 più vai 30 al cartello sinistra 3 taglia vai 50 destra 4 per tornante 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 destro 2 meno sfiora 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 sinistra 4 segue piega sinistra per piega destra per sinistra 5 e a rail destra 3 sfiora destra 3 sfiora vai 70 sinistra 3 meno apre vai 50 vai 50 vai 50 destra 3 meno diventa 4 vai 50 vai 50 sinistra 4 per destra 4 vai 50 sinistra 3 vai 70 vai 70 sinistra 5 piega destra lunga lunga segue destra 4 meno e inserisci sinistra 5 inserisci sinistra 5 segue destra 4 meno per sinistra 5 vai 50 destra 4 lunga lunga vai 150